Ciao, sono Rina Poletti, maestra di sfoglia dal 1979, consulente di Molini Pivetti e docente di scuola nazionale ed internazionale per il settore della pasta artigianale. Ho fatto questo lavoro per oltre 30 anni e da 13 mi dedico all'insegnamento dell'arte della pasta fresca. Le mie mani sono sempre state lo strumento per impastare e il mattarello lo strumento per stendere. Voglio rispondere qui a tante vostre domande. Perché dovrei iscrivermi ad un laboratorio di pasta fresca? La prima cosa in assoluto è conoscere nel profondo l'utilizzo della materia prima, in primo ordine, le farine giuste per ottenere una buona pasta. Per farne che cosa? Molte sono le ragioni per cui vale la pena di frequentare un'esperienza simile. Investire nel business della pasta fresca, che è in crescita esponsenziale ogni anno. La facilità di esecuzione rispetto ad altri settori. Poi la pasta fresca è simbolo di italianità nel mondo. Quindi un investimento per un'apertura di un laboratorio nuovo, molto meno oneroso di qualsiasi altra attività e tanto altro. Ecco, queste mi sembrano buone ragioni per la quale voi abbiate desiderio di fare questa esperienza online con azienda Molini Pivetti e la sottoscritta. Da febbraio 8 15 22 metteremo le mani di impasti insieme. Siete curiosi? Vi aspetto, iscrivetevi!